Bentornati a RaiTunes, vi presento per cominciare un artista straordinario, 15 anni di carriera internazionale e soltanto 23 anni di età, si chiama Francesco Caffiso, sassofonista, sicuramente una delle realtà nuove del jazz italiano. Interessante perché in lui coincidono da un lato la cultura classica del jazz, il linguaggio, il vocabolario di una cultura così storicizzata come il jazz e contemporaneamente anche la sensibilità, la freschezza, la capacità di entrare in sintonia con quello che è il suono contemporaneo. Ho chiesto a Francesco di improvvisare sopra un brano del repertorio di RaiTunes e lui ha scelto questo pezzo di Richard Spaven, che poi è un batterista inglese che ha lavorato molto nel suono, nella scena elettronica del Broken Beat londinese, ha messo a punto questo brano che ha un beat hip hop ma che è molto elegante, suona molto jazz dal tempo stesso. Francesco lo sente, intuisce la tonalità, pronto a improvvisare, aspetta il beat e poi parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricorda l'occhio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.